non dice lo potete di uscire ma come di uscire che ne so non ho sentito il nome di raga ma lo sto invitando ma perché il gioco abbiamo tre tagliato se non sento un po aperto solo sono un tipo un po aperto becca non ha mai fatto salvaguarda deve andare ho mai visto una cosa così schifo contro questo gamer di bella come negare sono stati a destra perché se andiamo tutti a sinistra sono sempre destra sempre destra mi troppo bella fare il bagnetto diretti nell'altro che ho pensato in grossa che arrivo allora più francesi striga dove cazzo stanno e soprattutto nel mezzo sto in grado di blu robottino ah è vero specialista è piaciuto? un po' chezza ora questo! prima il triplano con l'elson no, bello è sempre grado è sempre grado è morto, è morto che casino non è andato nell'acqua non è andato nell'acqua sì ragazzo, fermo a destra non è andato nell'acqua non è andato nell'acqua è andato nell'acqua occhio Giorgio, dimora sto prendendo prego c'è uno del triplano regà, andiamo a destra regà, andiamo a destra io ti fai a destra sono nati tutti in flag flag ma mettiamo un po' di ccf dopo sì, vabbè io chiamo flag, capito guarda mi spiegherò non è mi spiegherò non è mi spiegherò no, metto non fuoco dagli SCIM eh eh non ho parole E' un po' santi che chile con lightning Guardi il posto C'era anche un altro giu, l'hai preso? Sì Non è andato a sinistra una? Raga però così da non Non è andato a sinistra Non è andato a sinistra Non è andato a sinistra Ti puscio a destra C'è il WSAT, l'ho chiamato Oh 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 No va bene, non è morto Un è dietro Mi avevo stravanzato Prendo io, prendo io Ok, bene Lu, cosa vogliamo fare? Vogliamo girarci o cosa? Stiamo dietro Stiamo facendo davanti dietro Coprimi, coprimi, coprimi Eh, sono one shot Vabbè, dai Eh, non passa PLVM è otto No, ho l'anilator Un'altra No, regazza, non c'è a destra Un'altra No, regazza, non c'è a destra Eh, non c'è nessuno Lo ha fatto, lo ha fatto, lo ha bloccato Lo ha bloccato, lo ha bloccato, lo ha bloccato No, 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 ok No, mi ha fatto il giro Mi ha graffato il muro, aspetta che stanno Comunque prima lo stavamo facendo avanti e indietro dietro e Andrew Soltanto che non stavo guardando la minimappa Stavo guardando soltanto io se lo sto Non c'è il rapid fire so strano Bella così la mimetica, regà Eh, vero? Sì, sì Devi vedere quella mia sulla pistola Devi assolutamente raccogliere la mia pistolina È una mimetica assurda, regà Ti vengo appresso, allora Tutta tribale, psichedelica, una cosa strana Un po' di tutto che dirò, eh Vedi perché non capisco il po' Io non sto facendo È per questo Tutta viola, viola, verde acqua Verde, verde scuro e azzurro Eh, l'amaggione, già Che cazzo hai fatto? Cosa fighissima Oh, guarda che bello sto Vsat Aspetta, inserisciate Tirare, 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 tirare Quello del cazzo è peccato più in meno E' una roba di più in mano Dentro la capatina, dentro la capatina Un altro Ah, l'ho fatto Non ci chiede un shot dentro la capatina, regà Bello del cazzo è un po' di più in più Sprezz Resa Riste 3 infatti mi sa che anche io ma il vincitato ragazzi io non ce l'ho sbloccato come mai? guarda una volta che sei fallato ammazzi quello dentro la casa aspetta morto no ma come ha fatto questa merda? c'è un arma in giro? si qua qua c'è un M8 davanti a me ci sono c'è un cazzo un bugiardo guarda davanti a me guarda davanti a me guarda dove sono io qua guarda dove sono io guarda dove sono io no ma ho dato le munizioni ma che c'aveva otto colpi c'è un M8 con otto colpi eh capito? che ne so io ragazzi non tre a fare due a fare il bagnetto uno è il nostro spawn io li sto seguendo con la mia pistola killer no vabbè mi ha rubato no 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 ma ha fatto l'altro porco ah ok che non ha f***to andrew andrew oh è Oh, è nice! Madonna, è il suo figlio di troia! Oh, guarda il suo figlio di troia! Così è il mio figlio! Hai pitato tutti i colpi! A me piacerebbe fare un'intera partita con la T-Later Grazie a casa! Mi piacerebbe fare un'intera partita con la T-Later Fini i colpi per tutto! No, ce l'ho di nuovo per l'M8 Vabbè, ma questo è un figlio di troia Vabbè, no, ragazzi, che vuoi fare? Vabbè, mi hanno ucciso Vabbè, non arriviamo là! Occhio, stanno bruciando! Ragazzi, l'hai messo qui? No, io no! No, il coso non lo uso, sinceramente! No, il coso non lo uso, sinceramente! C'è due kill e c'ho le... Eh, mi hanno fatto! Sono tutti a sinistra, ragazzi! Sono tutti a sinistra! Ah, ma c'è una morte, eh! C'è una morte, eh! Sì! Sì! non vinciamo noi così e vinciamo noi così e prima non vinto l'ora vabbè quanti colpi si è mangiato stupido ma dove stai facendo quelle kill scusami ma in giro vado fado destra sista dove vedo che manca uno perché vuoi continuazione andate dove tutti fanno le kill quindi io mi sposto mi sono stufato me otto la mia pistolina fortissima ho fatto tante kill perché non me ne sto accorgendo no non te lo dico io te lo vediamo fino alla partita vabbè perché non lo vedrò e scorto robin non vi preoccupate c'ho tipo mille cose da tirarvi quindi no ormai due prima della scasa dura la roccia non è bianche loro vedrai ora con l'ingrotta lo prendo io con l'ingrotta è mio io prendo quello sopra in casa c'è qualcuno nessuno gratta l'ho preso no sto non lì in casa andrei sei già a destra no no mi hanno sfruttato andrei dimmi quando vuoi a destra ci metto un po' lui perché c'è SMG devo fare modi dirty io sono con una scaretta qualcuno è a destra? vado io middo va a destra va a destra va a destra va a destra no sto io a destra devo stare a sinistra no vabbè con che granata vado a destra io vai a sinistra io vado a destra vado a destra vado a destra vado a destra la persona s'entra era giusto non è per Marley Guarda sia fatta la persona s'entra guarda la persona s'entra he ж una persona s'entra a destra non li vedo raga ne vedo io uno guarda stanno fermi accucciati ma che fanno ma raga quanti sono raga se andate a destra li schiacciate che state troppo dietro a destra dovete arrivare alle roccette quelle davanti all'edlitch guarda questo qua dietro l'edlitch me ne manca pure me l'ha attaccata tu vieni io non posso cioè dovete farlo pure voi non posso farlo sempre io che vado gli spawn non ci riesco sta arrivando andrea aspetta non c'è niente vai ci sono arriva tutti a segno ok ci sono già ho fatto l'altro ottio bravo quella destra nooo si rimanevi camperato io non posso arrivarci adesso no no raga per favore a destra ma raggiungo quella destra non riuscite andare più avanti di là non capisco perché era perché dovevamo arrivare già c'è una destra che sta sempre ferma le casse quando potremmo andando più avanti c'è ancora un altro mistra uno one shoot qubx un altro qubx dai a destra non c'è nessuno uno mi segue uno a destra l'ho fatto dietro imperatù qua imperatù no ma dove sta andando raga porca madosca però uno in base nostra non so cosa fare da me dai come posso andare a destra e non ci sapete sta dai già dai dai una mano ad avanzare non ci credo non ci credo non ci credo non lo posso ammazzare non lo pensavo lo ammazzavi te invece stavi a sparare quella a cui sparavo io ma un kill war che non sei altro c'è il tuo compagno che spara uno sbattite nel cazzo di fare una kill un altro una kill in più nemmeno non te cambia la vita che dici ee 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 è proprio per rubare le kill così porca due il fischio che sottofondo è orrendo però chi di voi sta giocando le cuffiette telefone deve morire ee 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 io raga fai un giveaway Giorgio che regalami le cuffie che giveaway una in capannina preso a ballà ma sei 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 no 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 si sei sei no ho visto una cosa che non vorrò più vedere eh eri dietro di me uno c'è una sinistra no no attiato la raffiga a tirato eh si sono tutta la macchina sono tutta la macchina guarda li ammazzerei io volentieri si riesco a vedere questo ali mortacci vostro non visibile ora sono sul punto solo la città c'è uno qua dietro l'angolo subito bene ci rinuncia a sparare così tanto non mi ammazzo non vogliamo parlare che una monazista destra legata giurio destra giurio destra ecco no il cazzo ad un colpo sono due dietro alla macchina e tre dietro in casetta cosa c'ha questo colmi questo gioco il mitraglione senza 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 ora questo il dragon millan giocava ma io sto giocando con 113 di ping 180 pure a volte prima addirittura mi recente sempre non riesco a rinverire ragazzi sono a destra da sinistra però comunque ragazzi infatti della brevi scappa dalle mani questo ti rendi conto ma porca grotta non è morto adesso non c'è nessuno non avanti non avanti non avanti ho la via una davanti a me non è la britta è tenata indietro oh nella casa nella casa oh nella casa scop nella casa nella casa no l'ho ferito l'ho ferito l'ho ferito non ci credo e crazy zocker ok era lui ah guarda i quanti pugni hai tirato la casa era il blocchio si è terza il blocchio è il blocchio è il blocchio sul blocchio eh... ho fatto un coloco due sono due occhio è qualcosa di vero è tutto qui mi è una vittura chi è stessa io è la sinistra io adesso sono alla sinistra è una vittura è un blocchio c'è uno da dietro la roccia mi ha fatto col mitraggione fermare lo spawn ragazzi io non ho parole 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 io non ho una guerra da sinistra mi cotto non fai qualcosa guarda pregata mano a destra io non ho preso vabbè raga ma mi danno un colpo oh sono affittato ma com'è sta cosa ah quando guardi la killcam per sbaglio vai vai che gioco la vita guarda sai quanto kill ho fatto uno è lato uno è lato vabbè raga scherzo uff vediamo un pochino quanti c'era 107 non male not bad not bad è lato raga come sta 107 Un'altra raga tanto poi ritorno Grazie a tutti.